Siamo dinnanzi al cosiddetto Stadio dell'Atletica per i giochi del Mediterraneo e ho al mio fianco Antonello Ciavarelli che è il coordinatore cittadino del Comitato Taranto Redenta. E allora intanto noi ravvisiamo dei pesantissimi ritardi che si sono accumulati nel tempo rispetto a quello che doveva essere il cronoprogramma dei lavori della realizzazione di questo stadio dell'Atletica e peraltro anche alla luce di questa lentezza, di questi ritardi, si verificano dei disagi per gli atleti tarantini e non, i quali sono costretti addirittura ad allenarsi per strada. E allora vediamo intanto questo capitolo riguardante i ritardi rispetto al cronoprogramma. Intanto grazie Luigi perché veramente siamo stanchi e non se ne può più. Questo campo è stato chiuso il primo ottobre del 2020 perché in 270 giorni di calendario dovevano essere conclusi i lavori per la nuova pista di atletica. Oggi manco un mese, saranno tre anni e non si sa perché ancora siamo in alto mare con i lavori. Soprattutto è una questione anche morale di mortificazione di questi atleti a livello nazionale e internazionale. Io nel mio piccolo, nella mia categoria ancora corro e ci alleniamo per strada o qui al parcheggio del Palafiomo oppure a Cimino. E non se ne può più anche perché abbiamo diritto di sapere i motivi per i quali ci sono questi ritardi e se c'è qualcuno che paga una penale. Quindi non escludo che un domani ci possa essere anche un ricorso, un'azione giudiziaria agli enti perché abbiamo veramente una mortificazione dal punto di vista morale, dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista economico perché ha dei costi non avere un impianto che ci spetta come cittadini. Ritardi anche con conseguenze gravi, drammatiche. Pensiamo ai rotoli di catrame, materiale altamente infiammabile, destinati alla pista, depositati sceleratamente da aprile di quest'anno sotto la curva sud dello stadio Iacovone. Da qui l'incendio divampato che tutti conosciamo. Dunque una programmazione seria avrebbe comportato l'immediata sistemazione degli stessi sulla pista, altro che la collocazione addirittura nello stadio. Ma quando mai verrà realizzato, anche qui la capienza, il numero di spettatori ci sembra abbastanza esiguo. Questo che dici insieme ad altre questioni sono veramente paradossali. Non si è pensato a fare come in altre città, parlo di Rieti, Grosseto, Arezzo, fare degli spalti. Conserviamo quello del vecchio campo, gli spalti del vecchio campo scuola che ha una capienza di 300 spettatori e si pensa che poi con dei tubi innocenti fare delle gravi. Una cosa arraffazzonata, come dire? Per l'occasione, metterli e toglierli. Ma non si poteva già farlo in principio, ab origine? Certo, all'origine fare questi spalti in modo che si accoglievano spettatori e considerando che per ogni evento a livello nazionale ci sono almeno 3.000 persone che si muovono tra spettatori, allenatori e stessi atleti. E poi visto che c'è tutto questo spazio, tutti questi lavori, si poteva fare anche una pista coperta che così era l'unica pista coperta del sud Italia. L'altra c'è a Rieti e ci sono tante cittadine, con meno abitanti di Tarnato, che hanno servizi in termini di quantità e qualità. Un altro timore è sicuramente quello che alla fine l'atletica, che è la regina degli sport per i giochi di Mediterraneo, i giochi e le gare si svolgeranno ad altre città. Per esempio Molfetta ha uno stadio nuovo e che piano piano si sta rodando a livello non solo della funzionalità tecnica sportiva ma anche a livello sociale e quindi gli alberghi, i ristoranti, tutto ciò che è l'economia che ruota attorno all'impianto sportivo. Mentre noi quantunque oggi fosse pronto l'impianto saremmo già in ritardo e quindi questo non vuole essere un cattivo auspicio ma anzi un sollecito a sbrigarsi. C'è da dire che quello che manca a questa amministrazione è la capacità di programmare quindi un'assoluta incapacità di programmare ma anche un'incapacità di confrontarsi con altre realtà perché in questi casi bisognerebbe mutuare esempi di altre strutture sportive ma purtroppo la presunzione unita alla incapacità amministrativa genera questi mostri, questi vuoti cosmici perché vedete ancora siamo al punto di partenza e il 2026 si avvicina. Certamente si realizzerà la struttura ma quale struttura, che tipo di struttura, con quali criticità e con quali grossi limiti proprio quelli che il coordinatore Ciavarelli ha esposto in questa nostra chiacchierata. Grazie